Capitolo 7 Strani alloggi L'indomani mattina Bilbo si alzò col primo sole negli occhi, saltò su per vedere che ora fosse e per andare a mettere sul fuoco il bollitore e scoprì di non essere affatto a casa sua. Così si mise a sedere, col desiderio irrealizzabile di lavarsi e spazzolarsi per bene. Non pote fare né l'una né l'altra cosa e nemmeno avere del tè, pane tostato e pancetta a colazione. Solo carne di montone e di coniglio fredda. Dopodiché dovette prepararsi a ricominciare tutto da capo. Questa volta gli permisero di salire sul dorso di un'aquila e di tenersi ben stretto tra le ali. Sulla sua testa si formò una violenta corrente d'aria ed egli chiuse gli occhi. I nani gridarono addì e promesse di sdebitarsi col signore delle aquile, semmai ne avessero avuto la possibilità. Mentre quindici grandi uccelli si levavano dal fianco della montagna. Il sole si teneva ancora vicino al limite orientale delle cose. Il mattino era freddo e nelle valli e nelle conche c'era una nebbiolina che qua e là si avvolgeva intorno alle cime e ai pinnacoli delle alture. Bilbo aprì un occhio per dare una sbirciatina e vide che gli uccelli erano già molto in alto e che la terra era molto lontana. E le montagne già distanti si ritraevano sempre di più. Chiuse di nuovo gli occhi e si tenne più forte. Non darmi i pizzicotti, disse l'aquila. Non hai bisogno di tremare come un coniglio, anche se gli somigli abbastanza. È una bella mattina con poco vento. Cosa c'è di più bello di volare? Bilbo avrebbe voluto dire un bagno caldo e poi più tardi una bella colazione sul prato. Ma ritenne che fosse meglio non dire nulla. E allentare la presa appena un pochino. Dopo un bel po' le aquile dovettero avvistare perfino da quella grande altezza, il punto verso il quale si dirigevano. Infatti cominciarono a scendere volteggiando su una larga spirale. Lo fecero a lungo e alla fine lo hobbit aprì di nuovo gli occhi. La terra era molto più vicina. E sotto di loro c'erano alberi simili a querce e olmi. E larghe distese erbose. E un fiume che vi scorreva in mezzo. Ma proprio al centro del percorso emergeva dalla terra una grande roccia, quasi una collina di pietra, come un estremo avamposto delle montagne lontane o un enorme macigno scagliato nella pianura a miglia di distanza da qualche gigante tra i giganti. Veloci le aquile piombarono a una a una sulla cima di quella roccia, e vi deposero i loro passeggeri. Addio! gridarono. Dovunque andiate, finché i vostri nidi vi accolgano alla fine del viaggio. Questa è la cosa da dire tra aquile beneducate. Che il vento sotto le vostre ali vi sostenga fino a dove il sole salpa e la luna cammina. Replicò Gandalf, che sapeva la risposta giusta. Così si separarono. E benché il signore delle aquile divenisse in seguito il re di tutti gli uccelli, e portasse una corona e quindici collari d'oro, che erano l'insegna del suo potere, fatti con l'oro dato gli dai nani, Bilbo non vite più le aquile. Se non altissime, è in lontananza durante la battaglia dei cinque eserciti. Ma poiché questo succede alla fine della nostra storia, per il momento non ne diremo nulla di più. C'era una spianata sulla cima della collina di pietra, e un sentiero ben tracciato, con molti gradini che conduceva in basso fino al fiume, attraverso il quale un guado di grosse pietre piatte portava i pascoli al di là del corso d'acqua. C'era una piccola grotta, di quelle accoglienti col pavimento di ciottoli, ai piedi dei gradini e vicino all'estremità del guado sassoso. Lì la compagnia si raggruppò per discutere il da farsi. La mia intenzione è sempre stata quella di vedervi tutti sani e salvi, se possibile, al di là delle montagne, disse lo stregone. «E un po' per abilità, un po' per fortuna, ce l'ho fatta. E veramente ci troviamo assai più a est di quanto avessi mai potuto accompagnarvi. Perché in fondo questa non è una mia avventura. Probabilmente verrò a dare un'occhiata prima che tutto sia finito, ma nel frattempo ho altri affari urgenti da sbrigare». I nani gemettero e si mostrarono sconfortati e Bilbo scoppiò a piangere. Avevano cominciato a credere che Gandalf li avrebbe accompagnati fino alla fine e sarebbe stato sempre lì a tirarli fuori dai guai. «Non è che io stia per sparire proprio in questo momento», disse Gandalf. «Posso darvi ancora un paio di giorni, probabilmente posso aiutarvi a uscire dalla situazione spiacevole in cui vi trovate al momento. E anch'io ho bisogno di un po' di aiuto. Non abbiamo né cibo, né bagagli, né poni. E voi non sapete dove siete, almeno questo ve lo posso dire. Siete alcune miglia più a nord del sentiero che avremmo dovuto seguire, se non avessimo lasciato il valico così in fretta. Pochissima gente vive da queste parti, a meno che non vi sia arrivata dopo l'ultima volta che sono venuto qui, il che è stato alcuni anni fa. Ma poco lontano da qui vive qualcuno che conosco. è il qualcuno che ha fatto i gradini della grande roccia. Credo che la chiami Carrock. Non ci viene spesso, certamente non di giorno. È inutile stare qui ad aspettarlo. Anzi, sarebbe pure molto pericoloso. Dobbiamo andare a trovarlo e se tutto va bene nel corso del nostro incontro, penso che me ne andrò e vi augurerò, come le aquile, buon viaggio ovunque voi andiate. Lo pregarono di non lasciarli. Gli offrirono oro di drago e argento e gioielli, ma Gandalf non si lasciò convincere. Vedremo, vedremo disse e comunque penso di essermi già guadagnato un bel po' del vostro oro di drago quando ve ne sarete impadroniti.